Buongiorno, sono Alberto Latorre, formatore consulente filosofico, ideatore del percorso per genitori, genitori coleali, il percorso che aiuta i genitori a sviluppare in sole 12 settimane relazioni di amorevolezza, tenerezza e soprattutto autorevolezza nei confronti dei figli, da quelli piccoli a quelli adolescenti. In questo video vi voglio parlare di come è possibile modificare alcuni comportamenti dei propri figli a partire dal rinforzi positivi. Partiamo da questa considerazione. Come genitori noi abbiamo un ruolo fondamentale tra gli altri che è quello di rispecchiare. Che cosa significa rispecchiare? I nostri figli nel costruire la propria identità capiscono chi sono sulla base dei messaggi dell'immagine più in generale che noi rimandiamo loro. Lo facciamo attraverso gli sguardi, i gesti, i comportamenti e le parole. In questo quadro noi possiamo restituire ai nostri figli tre tipi di immagine. La prima immagine, che è il classico rinforzo, complimento, lode, è un'immagine positiva. Cioè sostanzialmente stiamo dicendo loro tu sei ok. Il secondo tipo di messaggio che possiamo mandare ai nostri figli è un tipo di disconferma, è un messaggio di disapprovazione, di critica, di biasimo. È quello che viene definito in qualche modo il messaggio non sei ok. E infine c'è un terzo messaggio che noi possiamo mandare, che è quello cosiddetto di disconoscimento. Cosa significa disconoscimento? Se il primo, la conferma, la rinforzo, la lode, è un messaggio tu sei ok, vai bene come sei. Se il secondo, quello di disconferma, è un messaggio non vai bene, sei sbagliato, ti comporti male. Il terzo è un messaggio devastante. Perché devastante? Perché significa dire ai figli tu non esisti. E la cosa fondamentale è che i nostri figli desiderano essere riconosciuti, ovvero visti da noi. Per cui paradossalmente se noi non mandiamo massaggi né di conferma né di disconferma, cioè complimenti o critiche, ma mandiamo solo messaggi di disconoscimento, alla prima occasione in cui i nostri figli perceperanno un messaggio di riconoscimento, in cui si accorgono che noi ci siamo accorti di loro, tenderanno a utilizzare sempre più quel comportamento per ottenere la nostra attenzione. Per cui se noi diamo fondamentalmente solo dei messaggi di critica, delle correzioni, dei rimproveri, delle osservazioni, i nostri figli capiranno queste cose che per avere la nostra attenzione devono comportarsi male, devono sbagliare. Ma non solo. Nel momento in cui noi diamo loro questi messaggi, loro li fanno propri, diventano i messaggi con i quali loro valutano e pensano e si comportano soprattutto. E l'altra conseguenza, sono due conseguenze molto serie, molto importanti, è che tenderanno a comportarsi in quel modo lui, perché fondamentalmente noi gli abbiamo detto che sono così, che sono spagliati, che si comportano male, che sono disobbedienti, che non ascoltano, che sono maleducati, che sono volgari. Se questo messaggio durante l'infanzia appunto diventa un messaggio che tende a essere introiettato, cioè diventare proprio, i figli lo fanno proprio e lo mettono poi in atto, in adolescenza cosa accade? In adolescenza i figli non ci ascoltano più, perché quel messaggio non piace a loro e non vogliono ovviamente più sentirselo dire. Per cui non ascoltano le correzioni, i rimproveri, i consigli, gli ordini, le regole. Allora, come genitori dobbiamo sapere bilanciare, e su immaginare una bilancia con due piatti, devono essere di più i messaggi di rinforzo, di conferma, di lode, di gratificazione, di riconoscimento, se non per i risultati, quantomeno per l'impegno. E dobbiamo diminuire percentualmente i messaggi invece di critica, di osservazione, che attenzione, devono essere dati, perché altrimenti se dovessimo dare solo messaggi positivi di rinforzo senza mai dire quello che non va o quando sbagliano i nostri figli, rischiamo di crescere dei figli onnipotenti, arroganti o addirittura narcisisti. Cosa possiamo fare allora? Possiamo fare tre cose. La prima è dare più messaggi di conferma, di rinforzo positivo, di lode, di gratificazione, di complimenti. Seconda cosa, possiamo dare meno messaggi di critica e soprattutto darli in una modalità, che nel percorso spiego e approfondisco insieme ai genitori che seguono le 12 settimane, che è quella di dare dei messaggi di critica, di asimo, delle sanzioni che aiutino ad avere un'immagine comunque positiva di sé pur riconoscendo il comportamento sbagliato. Terza cosa, evitare di dare messaggi di disconoscimento. Questa non è una teoria, è pratica ed è stata osservata nel corso della storia dell'umanità in innumerevoli occasioni e codificata con un nome, che viene chiamato, per chi si occupa di questi studi, di effetto Rosenthal o effetto Pygmalione, ovvero che le persone a cui, in particolare i nostri figli, ma anche i nostri alunni, se siamo degli insegnanti, i bambini, quindi i ragazzi, tendono a diventare, tendono ad assumere quei comportamenti che noi rinforziamo loro. Bene, se sei arrivato fino a questo punto del video, molto probabilmente sei interessato anche tu a sviluppare una modalità genitoriale più autorevole e allo stesso tempo più amorevole, perché l'educazione è un binario, corre su due rotaie, da un lato la fermezza, dall'altro l'amorevolezza, perché se non c'è amorevolezza, c'è solo fermezza, i figli diventano ribelli. Se c'è solo amorevolezza e non c'è fermezza rispetto delle regole, i figli tendono a essere insicuri. Allora, il mio percorso ti consente in 12 settimane di sviluppare delle relazioni educative fondate sul rispetto, sull'amore e consentire a tuo figlio di acquisire tutta quella sicurezza in se stesso, nelle proprie capacità e soprattutto a te di sviluppare un rapporto sereno. Come farlo? Il percorso è un percorso di 12 settimane con un incontro settimanale in videoconferenza con una serie di pratiche da sviluppare durante l'arco della settimana che dovrai svolgere individualmente oppure con tuo figlio. Questo percorso ha già aiutato decine di genitori a uscire da situazioni veramente complicate oppure a trasmettere in maniera efficace i propri messaggi, i propri valori, le proprie idee di comportamento e soprattutto la propria etica di vita ai figli. Ha consentito ai genitori, a molti genitori, di uscire da dinamiche disfunzionali nella relazione con i figli, di riuscire a farsi ascoltare, di riuscire soprattutto a entrare in una relazione che uscisse dai soliti schemi nei quali i figli si contrappongono ai genitori. Altresì ha consentito a dei genitori di partire fin da subito, quando i bambini erano piccoli, con un'educazione rivolta alla libertà, all'autonomia, all'intraprendenza, alla serenità. E infine ha dato la possibilità a genitori che già sono amorevoli e autorevoli di sviluppare e di potenziare ancora di più la loro modalità. Per cui se sei interessato, nel primo commento trovi il link per richiedere la chiamata gratuita di 30 minuti durante la quale capiremo insieme se io e il mio percorso siamo la risposta alla tua esigenza educativa.